Oggi sono super super contenta perché riesco a registrarvi questo video haul di cui veramente stavo iniziando a temere il peggio perché questo pacco non arrivava che poi è un semplicissimo ordine dal sito Gorgeous dove praticamente ho acquistato tantissime volte però non si sa perché dall'Inghilterra è arrivato dopo un paio di giorni e si è bloccato per quasi un mese all'ufficio postale a Torino insomma al centro smistamento postale di Torino e non partiva da lì e io non riuscivo a contattare nessuno per avere informazioni sì ho scritto su un paio di chat, form, insomma però non lo so, nessuno non mi ha risposto poi magicamente il 24 da Torino si è spostato ed è stato registrato a Perugia e quindi mi sono detta vai che mi sta per arrivare e oggi è arrivato ma dopo circa quasi un mese e io già stavo lì che mi stavo disperando perché ero convinta che avrei dovuto iniziare a telefonare non lo so, scrivere mille cose ad impazzirmi insomma e ci tenevo tantissimo a quest'ordine perché contiene la mia nuova borsa che non vedo l'ora di spacchettare perché ancora è tutto impacchettato come vedete non ho spacchettato niente perché voglio aprire tutto in questo video allora, come prima cosa io ho preso il mio mitico calendario che praticamente acquisto quasi ormai da tutti gli anni l'anno scorso no, l'anno scorso ho acquistato un altro calendario giusto appunto per variare un po' però quest'anno sono tornata alle origini però ho preso un calendario un po' diverso dal solito questo è un pochino più piccolino allora questa è la mitica copertina ed è un calendario dedicato all'amicizia era infatti scritto tipo best friends forever cioè era scritto una cosa del genere e dietro ci sono tutte le foto vediamo, allora togliamo il cartone allora questo rispetto all'altro che compro di solito io non ha adesivi, non ha nulla è proprio un classico, classico calendario però come vedete è davvero carino perché poi ogni mese ha i suoi colori ha il suo disegno cioè ci sono anche i disegni nuovi perché comunque era da un po' che non acquistavo cose di gorgeous e niente io lo adoro mi sta venendo quasi l'idea anche di fare disegni diciamo tipo nel mio stile ispirandomi a questi di gorgeous cioè carino, carino, carino troppo, troppo carino io adoro questi calendari è troppo, troppo carino e quindi niente questo finirà dritto, dritto nella mia cuscina ah, poi quando ho aperto il pacco vedevo che c'era questa cosa che di solito non c'è mai e non capivo cosa fosse che c'era questo coniglio con queste orecchiette e con questi appunto occhiali poi ho girato e ho visto che dietro è una cartolina postale e loro con un inchiostro argento mi hanno scritto thank you for ordering from us enjoy e quindi insomma con la faccina che ride e questa cosa non c'era l'altra volta quindi grazie è carina poi ho preso due cartelline perché mi servivano delle cartelline qui a casa allora mi serve una cartellina per i disegni già ne ho un'altra e perché comunque sia i disegni che faccio sul foglio o non solo quindi io non faccio i disegni solamente sugli sketchbook ma anche sui fogli o comunque quando faccio i disegni digitali poi di solito comunque li stampo perché così mi rimane comunque anche una traccia cartacea e la cartellina che avevo qui è praticamente piena me ne serviva un'altra allora io adoro per i disegni le cartelline queste fatte così e le trovo troppo troppo carine e anche comode perché comunque volendo permettono anche di suddividere i documenti per argomento perché volendo hanno anche le loro linguettine dove potete mettere anche un adesivo con scritto cosa contiene questa è qualcosa di bellissimo perché si chiude con l'elastico qui davanti ed è così di questo colore fantastico ma guardate quant'è carina con tutte le città i monumenti delle città italiane non ci avevo fatto caso questa è proprio dedicata all'Italia Time to Fly ed è diciamo un inno forse anche al viaggio ma gorgeous con la farfalla sul braccino è qualcosa di delizioso e questa cartellina è bellissima per il colore per tutto e non vedo l'ora quindi di riempirla con tutti i miei disegni poi invece per altri tipo di documenti più noiosi ho preso una cartellina con gli elastici ma non è una cartellina con gli elastici normale allora questa è così e praticamente davanti è così ed è praticamente tutta opaca però questo disegno e quindi i dettagli anche del disegno sono lucidi credo che si veda anche dalla videocamera e dietro invece è così tutta opaca e praticamente si apre con questi due elastici così quindi è comunque particolare non è uguale alle solite cartelline con gli elastici e dentro è così con la classica fantasia stile gorgeous è bellissima anche questa e mi serviva così per quello che ci devo mettere ma io vorrei farvi notare quant'è carina gorgeous con il cerbiatto è bellissimo ed ora arriviamo a lei la borsa allora avevo bisogno di una borsa non per uno sfizio non per mi serviva veramente perché comunque quelle che ho iniziano a rovinarsi e la volevo guardando un po' le borse insomma che ho marrone perché non ho una borsa marrone e allora l'ultima cosa che ho pensato è stata al sito questo di gorgeous perché io ho già una borsa di gorgeous nera e ce l'ho da due anni sicuro forse anche tre ma è praticamente indistruttibile non si è rovinata per niente è bellissima e comunque la gente ancora continua a chiedermi carina sta borsa dove l'hai presa e così insomma e allora ho pensato di guardare sul sito e ho visto lei adesso la spacchetto lei è bellissima perché comunque ha il suo costo perché queste borse gorgeous costano più di 100 euro se ci ripenso se mi ricordo ve lo scrivo il prezzo qui da qualche parte perché dopo tutto questo tempo che è passato ovviamente non me lo ricordo non vorrei dirvi una cavolata dicendomelo così a memoria e questa borsa mi ha colpita un po' per il nome perché si chiama Chronicles Chronicles Bag una cosa del genere e quindi la parola Chronicles le cronache mi hanno fatto pensare alle cronache di Narnia a quei film un po' fantastici bellissimi che io stra-adoro ovviamente e quindi un po' mi ha tirato il nome ma proprio è bellissima allora è comodissima perché si può portare sia con la tracolla e sia a mano ed è a un mod di valigetta proprio perché è in stile è viaggiatore ed è qualcosa di bellissimo allora dentro ha lo scomparto qui davanti per le cose un po' più veloci da prendere e lo scomparto grande e capiente dentro con altre taschine ed è qualcosa di bellissimo non lo so a me piace tantissimo perché è tanto tanto rifinita allora qui dietro come vedete è di due colori qui c'è scritto once upon a time c'era una volta e ruby perché ruby è il nome di questo disegno di gorgeous ed è tutta con tutti questi grigori che spero si vedano mentre qui quest'altro colore più scuro è tutto disegnato ma in modo molto molto delicato da tutti di rigori floreali cioè a me piace tantissimo questa forza a me piace tantissimo e la trovo super bella super comoda bellissima e la adoro la stra stra adoro mi piace veramente tantissimo e considerando comunque che ha un prezzo simile sulla linea insomma di quelle di Guess o di Lujo devo dire che questa è di una qualità nettamente migliore perché a me quelle di Guess e di Gorgeous mi si sono rovinate ed è per questo che avevo bisogno anche di una borsa nuova quella di Gorgeous che ho e che uso veramente tanto non si è rovinata quindi se proprio devo spendere dei soldi li spendo per una borsa che so che comunque mi dura e che comunque anche se ha comunque un disegno un personaggio non è affatto da bambini non è pacchiana è troppo troppo bella mi piace veramente tantissimo quindi questo è il mio haul devo dire piccolino perché ci sono poche cose ma non mi sono lasciata tantare da molte altre cosine carine ho preso veramente solo quello che mi serviva e quindi spero che piaccia 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 che piaccia anche a voi fatemi sapere insomma se vi piace la mia nuova borsa perché io la adoro e mi raccomando seguitemi sui social che trovate sotto linkati ma soprattutto su instagram perché io presto forse domani posterò subito una foto con la mitica borsa ma liberamente ci posto foto quasi ogni giorno e quindi vi aspetto anche su instagram e se non siete iscritti iscrivetevi e cliccate anche sulla campanellina così vi arrivano anche le notifiche quando pubblico video e grazie per aver guardato il mio video haul e noi ci vediamo al prossimo video ciao